ciao a tutti cinefusi oggi occasione speciale direttamente da una location spaziale vi vado a parlare l'ultimo film che abbiamo visto per voi ovvero mimi il principe delle tenebre il primo lungometraggio di brando desica per la produzione rai cinema indiana production e bartley cinema sceneggiatura di ugo kitty irene pullini e lo stesso desica dicevamo appunto alla sua prima uscita come lungometraggio e come prima cosa appunto devo devo dire una prima uscita riuscita alla grande scusate gioco di parole ma appunto mi sento di iniziare questa recensione consigliando fortemente di andare a vedere il film anche perché mi interessa sapere poi anche da voi mi interessa avere un confronto sulle cose che vi dirò ovviamente senza fare troppi spoiler andiamo innanzitutto a cercare di collocare il film in un genere il film si colloca diciamo è collocato come dramma horror ma a mio avviso è anche molto di più in senso che come horror è un film bellissimo la prima cosa che volevo sottolineare che appunto soprattutto a dispetto di quello che ho visto ultimamente è un film dove i dialoghi effettivamente dicono qualcosa cosa che è sempre rara soprattutto negli horror d'altra parte il film però parla anche attraverso diciamo altri linguaggi quindi la fotografia e la sceneggiatura in generale quindi devo dire veramente un film è ben riuscito il film è più bello che mi sono trovato a recensire da quando appunto recensisco per questa pagina gli attori protagonisti giovanissimi sono Domenico Cuomo che interpreta appunto Mimì e Sara Ciocca la giovanissima Sara Ciocca che interpreterà Carmila la compagna di viaggio del nostro protagonista un protagonista la cui peculiarità fisica quindi non vi svelerò quale ma questo protagonista che ha questa peculiarità fisica che lo metterà sicuramente a dura prova all'interno di tutta la vita e poi all'interno di quello che il regista ci fa vedere dello spaccato del del vissuto che appunto ci consegna la storia del film è una storia del film che parla e qui torniamo al discorso della collocazione di genere perché se è vero che è un dramma che è un horror io lo potrei classificare anche insomma abbastanza tranquillamente come come film psicologico e thriller quindi ma comunque rimanendo all'horror e al dramma è sicuramente un film molto ben riuscito abbiamo come abbiamo detto questa incredibile incredibile perché veramente sono due attori che già hanno alle spalle sicuramente un forte background diciamo attoriale hanno già diverse esperienze ma non li avevo mai visti in questa veste e diciamo confermano tutto il loro talento sono è un film che ci dà tanto si esce dalla sala diciamo investiti investiti da diverse emozioni chiaramente possono cambiare rispetto allo spettatore ma sono sicuro che che anche voi soprattutto se lo andiamo a vedere adesso in questo momento dove in generale nel mondo siamo investiti da continua violenza è sicuramente un film che va a toccare alcune corde che stuzzicheranno sicuramente la vostra sensibilità alcune corde come appunto la violenza il bullismo ma poi anche tanto altro tanto altro appunto anche le vicende personali che toccano per esempio gli altri due personaggi che mi hanno colpito tanto come attori ma anche nella psicologia del personaggio uno è il padre adottivo di Mimì che è Nando nel film interpretato da Mimmo Borrelli e l'altro è Bastianelli scusate Bastianello che è una star locale è un figlio di un boss che non vede l'ora di diciamo defenestrare il padre esercitando e scatenando la propria violenza nei confronti di Mimì ma in generale come vedremo nei confronti del territorio territorio che è quello di Napoli quindi il film appunto è ambientato a Napoli nelle periferie napoletane e ci consegna anche appunto di nuovo uno spaccato folcloristico antropologico dove è ambientato il film e dove si sviluppano le vite dei protagonisti i protagonisti appunto diciamo molto giovani sono molto giovani anche nel film quindi abbiamo anche appunto i classici problemi che affrontano gli adolescenti appunto bullismo, violenza, accettazione quindi avremo un gruppo di giovani, di adolescenti scusate dove Mimì, una persona, un giovane fino a quel momento emarginato che troverà in questo nuovo gruppo di amici e soprattutto in questa compagna di avventura Carmila, poi però scopriremo di più su questo nome Mimì troverà appunto l'abbraccio di questo nuovo gruppo e prenderà delle decisioni che possono sembrare folli chiaramente dalla nostra prospettiva ma è qui poi insomma interessante perché il film ci dà l'opportunità di avere una prospettiva diversa sia sul finale sia sulle diverse scelte di Mimì che appunto prenderà a seguito della conoscenza di Carmila e di questo nuovo gruppo che in qualche modo in realtà sempre secondo una prospettiva una chiave di lettura che ci può dare il film in qualche modo lo aiuta ad uscire da una situazione nella quale per esempio invece l'aveva messo Bastianello questa star locale, questo boss locale circondato dai suoi magnaccia diciamo che eserce la propria violenza appunto come vedremo sul quartiere e su tutto il tessuto Mimì incontrerà anche altre persone nel proprio percorso altre persone sempre ai margini quindi abbiamo di nuovo questo spaccato questa chiave di lettura che ci vuole consegnare il regista ma ripeto poi in realtà lo spettatore avrà modo di interpretare a suo modo perfino il collocamento del film perché si presta a diverse chiavi di lettura Mimì quindi questo giovane è marginato con questi problemi di natura psicologica e anche fisica ma con un animo nobile e innocente grazie all'educazione di Nando il padre adottivo si cimenterà in questo mondo dove lo porterà Carmila e da dove poi vedremo verrà o meno risucchiato questo poi sarete voi a dirmelo risucchiato con colpi di scena insomma abbastanza appunto inaspettati che si vedono nel finale che però danno atito anche a chiavi addirittura differenti con questo spero di avervi invogliato ad andare a vedere il film chiaramente tenete in considerazione l'altra cosa che non vi ho detto è il titolo perché ci saranno dei rimandi anche nel film sul perché la scelta proprio del Principe delle Tenebre quindi andate a ricordarvi i Principe delle Tenebre chi sono nella storia della cinematografia e fatevi anche un'idea prima di andare a vedere Mimì su che cosa potete aspettarvi alla luce di quello che vi ho detto con questo vi ringrazio e vi saluto e aspetto i vostri commenti sulla pagina ciao